Oggi una pasta semplice, la più semplice di tutti, pasta burro e parmigiano, ma no quella pasta triste e sconsolata che i vostri figli la lasciano dentro al piatto. Oggi vi faccio vedere io come si fa una burro e parmigiano clamorosa. Ingredienti. Che vedevo di? Padella. Burro fatto in casa con le mie manine. E' meglio da anche in caramel. Parmigiano. Voi metteteci quello che ve pare, io ci metto i spaghetti. Prima di iniziare con la ricetta vedevo di una cosa importante. A fine video avrò un faccia a faccia con un miacolatore che mi commenta sempre sotto i video che miacola e mi insulta. Dice che non so capace a fare carbonara, che non so capace a cucinare, che dovrei andare a zappare. Ha detto che sta arrivando. Vediamo se c'è il coraggio di miacolar me pure in faccia. Come prima cosa mettiamo l'acqua dentro la padella. Pure l'acqua quando la metto io è buona. Quando bolle, buttate il sale grosso dentro. Porta bene. I spaghetti li cociamo direttamente in padella. A bomber, non comincia a di che questo lo fanno gli americani. Pure i numeri uno lo fanno. E una volta che è uscito tutto questo amido, spingete il fuoco e mettete la padella da parte. Mentre si sta rifreddando, prendete il burro e mettetelo dentro. Iniziate a mescolare velocemente, fuori dal fuoco. A questo punto aggiungiamo il parmigiano e continuate a mescolare. A questo punto aggiungiamo il burro e il burro e il parmigiano. Oio di gommi lo bomber. La vedete sta crema? Deve venire così. E fate gli evive in sogni ai figli vostri, no? Ma non l'impiattamento. Te faccio vedere veramente com'è il burro e il parmigiano. E ora ci mettiamo sopra il parmigiano. Mu guardala bene. Così capisci? Perché quella che fai tu, tu fio, non se la magna. Mu andiamo all'assaggio. Così poi andiamo a vedere se il mio colatore ci ha avuto il coraggio di presentarsi. Vedevo dire verità. So sincero. So sempre il numero uno. E ora andiamo a cambiare. E ora andiamo a incontrare questo miacolatore. Venite con me, va. Bomber. Ti guardi quello che ti ho detto all'inizio video? Che avrei avuto un faccia a faccia con un miacolatore seriale? Ecco. E il compagno si è presentato. Vediamo che c'ha da dimmi, mo. Au. Visto che ti sei presentato, mo che c'hai da dimmi? Eh? Mo non miacoli più. Quindi i piatti li fai meglio tu. Pure in faccia c'è coraggio da dimmi le cose, eh. Ho capito che li fai meglio tu. Fammi vedere come li fai, no? La carbonara. Volevo parlare della carbonara? Che mi ha insultato tanto là. Mo non parli più, oh. Ce l'ho con te, eh? Ah, te volevi far ripia pure tu, te volevi far ripia. E me lo volevi di, facevamo i video insieme. Ma tu mi sembri come tutti gli altri che miacolano, poi vengono qua e si vanno fare la foto con me. Ne ero sicuro che pure tu le facevi sta foto con me, Bomber. Famo se sta foto. Salam kille. Qualcuno se torna laником Fils. Faccio! Grazie a tutti.